Che piatto avete pensato per la giornata della ristorazione? Abbiamo preparato in questa giornata una pasta, un fusillo di grano arzo e ci abbiamo messo dei funghi cardunceli e una briciola di pane di grano che viene tostata. La ricetta è molto semplice come dei pomodorini, molto semplice, molto salentina. Facciamo la cozza con il pane cafone, una cozza con il pane di recupero, grattugiato e poi condito con del prezzemolo, dell'origano selvatico e poi viene gradinato al forno e servita. Valorizzare e promuovere i valori e il ruolo della ristorazione italiana celebrando al contempo il tema dell'ospitalità. Con questa finalità anche il Salento ha aderito alla prima giornata della ristorazione ideata dalla Fipe Conf Commercio a livello nazionale. 47 tra i ristoranti, osterie, pizzerie di Lecce e provincia hanno partecipato creando un piatto ad hoc dedicato alla giornata che ha visto come protagonista il pane. Un'iniziativa che ha anche una finalità benefica, infatti un contributo verrà devoluto alla Caritas. È una giornata importante per noi perché dopo due anni di Covid, dopo tutte le crisi che abbiamo passate, rilanciamo la ristorazione facendo anche del bene. E la prima, quest'anno speriamo di fare la seconda e di stare sempre più vicino alla gente più bisognosa di noi. È una giornata importante perché ci fa tornare un po' indietro e ci fa capire alcune cose che sono importanti, perché a volte ci sono degli sprechi inutili, ma l'idea è stata bella perché si è partita da una cosa base, una cosa bellissima, il pane. Il pane è antico, è quello che riempiva le persone quando non avevano niente. Un'iniziativa importante, bella e molto significativa.